Cos'è la domanda della settimana? Ogni settimana entro le 13 di venerdì verrà pubblicato su youtube una video domanda con relativa risposta qualora non venga pubblicato nulla il venerdì successivo verrà pubblicato un video che probabilmente sarà molto interessante in quanto la lavorazione ha richiesto due settimane i video che vengono prodotti ogni settimana sono di breve durata di circa due minuti due tre minuti quattro minuti massimo quattro minuti sono video che richiedono una lavorazione non indifferente ogni venerdì verrà pubblicata la video domanda della settimana con la sua relativa risposta qualora non venga pubblicata il venerdì successivo verrà pubblicato un altro video che vi consiglio di non perdere in quanto ha richiesto una lavorazione ulteriore